Tempo di auguri e di bilanci alla prefettura di Barletta Andrea Trani, dove questa mattina la padrona di casa, il prefetto Rossana Riflesso, ha convocato la tradizionale conferenza stampa prenatalizia per il consueto scambio di auguri con i giornalisti del territorio. L'occasione per fare anche il punto sulle attività portate a termine in questo 2023. È stato un anno molto complicato sotto certi punti di vista, un anno impegnativo, però un anno che ha portato anche degli ottimi risultati che credo siano sotto gli occhi di tutti e parlo naturalmente anche del profilo sicurezza. E' comunque un anno che ci dice che appunto dobbiamo continuare nel nostro impegno, cosa che sicuramente faremo per riuscire a conseguire risultati sempre migliori, per creare un clima di maggiore vivibilità ovunque in questa provincia. Centrale il tema della sicurezza nella sesta provincia anche in vista delle prossime festività. Nel piano predisposto dalla prefettura BAT spicca in modo particolare la lotta ai botti illegali. Quest'anno siamo organizzati meglio anche degli altri anni, nel senso che anche su indicazione del ministero, proprio stamattina abbiamo avuto un comitato con i procuratori Nitti e Baccaro, ci stiamo coordinando anche per quello che riguarda i fuochi d'artificio e quindi diciamo soprattutto per colpire la vendita diciamo abusiva di questi fuochi, ma anche con un controllo diciamo importante sul web perché molti di questi fuochi vengono venduti via web e quindi chiaramente sfuggono spesso al controllo così ordinario. E poi ci sono come dire tutte le iniziative di maggior controllo del territorio perché sappiamo bene che insomma in questo periodo anche la microcriminalità, i furti, i piccoli furti sono in aumento. Passi in avanti dal punto di vista del rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine, come aveva annunciato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, nel corso della sua visita nella BAT dell'ottobre scorso e altri arrivi sono previsti anche nel 2024. Ha mantenuto fede immediatamente a quello che aveva detto e in effetti sì, c'è stato già un aumento sia per la polizia che per i carabinieri e come aveva detto lui l'anno prossimo ci saranno ulteriori aumenti di personale. Quindi noi di questo ovviamente siamo, io sono contentissima perché il mio lavoro diventa, non dico più semplice, ma sicuramente più efficace.